Cominciamo questa puntata della versione di Penelope e cominciamo insieme alla prima ospite di oggi e quindi voglio dare il benvenuto a Sara Montani, l'artista di una mostra di cui parleremo tra poco. Ciao, benvenuta! È un piacere mio di essere qui con voi a raccontare del mio lavoro. Grazie mille per la disponibilità e quindi siamo qua per parlare di un lavoro nello specifico, questa mostra che si intitola Vestali che verrà inaugurata questo venerdì 8 marzo proprio in occasione della giornata internazionale della donna alla sua esposizione Spazio e Cultura a San Giuliano Milanese. E volevo che ci raccontassi un pochino come è nata l'idea di questa mostra perché il titolo Vestali richiama queste sacerdotesse dell'antica Roma che erano appunto addette al culto di questa dea Vesta e quindi volevo sapere come è nata l'idea a partire da questa figura per poi arrivare ad interrogarsi sui ruoli della donna nella società perché non l'ho detto però la mostra ha proprio questa intenzione. Sì, la mostra è nata con l'intento di valorizzare i ruoli della donna, le emozioni della donna, il contesto in cui ogni donna si trova a vivere quindi senza nessun tipo di definizione temporale. ecco perché l'idea del titolo e del denominare alcune mie opere vestali consente un passaggio tra presente e futuro come anche alcune opere per esempio per entrare subito nel vivo del discorso ho realizzato con la resina un velo di quelli che si indossavano durante le funzioni in chiesa ancora da parte delle nostre nonne e quindi questi veli neri oppure velo colorato di pizzo che venivano messi per coprire il capo e questo naturalmente oltre a riportare in auge questa usanza nostra ci consente di confrontarla con il velo che molte volte vediamo portare intorno a noi ma soprattutto io faccio riferimento all'interno della scuola perché questa mostra è caratterizzata dal fatto che hanno contribuito un gruppo di ragazzi del liceo linguistico Primo Levi che hanno fatto un percorso sulle competenze trasversali e per l'orientamento, il cosiddetto PCTO quindi una ragazza che porta il velo parlerà della mia opera che si intitola Venn ecco quindi qui noi abbiamo un confronto non solo tra generazioni perché io parlo della mia nonna o della mia mamma ma anche con altri usi e costumi di altri paesi e religioni quindi questo è un po' il senso di tutta la mostra per esempio cito un'altra opera che si intitola Straccio di donna oggi spesso capita di sentire dire ad una donna è uno straccio quando è conciata quando non è in ordine ma Straccio di donna è anche una donna che non vale niente quindi questa opera particolare è nata quasi per caso perché fugando in un sacco di stracci che sono serviti che servono per pulire il torchio calcografico perché io mi uso, mi servo molto nel mio lavoro utilizzo molto la stampa calcografica quindi questo sacco di biancheria ritagliata che mi era stata donata per pulire proprio come uno straccio il torchio esce questo, un ritaglio di un davanti di una camicetta e di una manica proprio un pezzettino piccolo di un abito o di una camicetta però aveva la particolarità di essere molto molto ricamato da mani sicuramente sapienti da donne di un passato lontano io immagino del primo novecento quindi una camicetta tramandata da madre a figlia che poi è finita per diventare uno straccio allora nel contempo il ripensare alla fatica del ricamo ma alla dedizione con cui le donne preparavano il nostro corredo chi oggi tra le ragazze prepara il corredo questo confronto nasce molto spontaneo molto evidente e quindi capire che le donne una volta si sacrificavano o addirittura lavoravano come ricamatrici e oggi forse qualche donna lavora come passatempo dedicandosi al ricamo quindi questi confronti nascono proprio dalla considerazione di un'opera d'arte ma in più questa opera avendo questo titolo particolare straccio di donna ed essendo il capo stesso piuttosto strappato pur essendo lavorato con la resina ed essendo una parte un brandello di un vestito dà proprio l'idea di uno straccio di un abito femminile reso prezioso dal ricamo quindi il valore della preziosità dell'abito rimanda al valore della preziosità della donna del suo lavoro e anche dei vari stimoli che un'osservazione su quest'opera ci consente di fare ecco tutto il lavoro gira un po' intorno a queste osservazioni in quanto saranno proprio i ragazzi sono mi pare 25 del liceo linguistico che faranno da guida alla mostra e quindi presenteranno le opere certamente parlando del mio sentire ma inserendo anche nella conversazione il loro sentire o le emozioni che suscitano alle persone e quindi questo confronto porterà a un arricchimento di tutti perché partendola da un'opera d'arte è possibile realizzare un circuito una messa in comune di tante informazioni e emozioni sì, trovo molto bello che sia a tutti gli effetti un viaggio nel passato, nel presente ipotizzando magari anche il futuro e trovo bello che ogni opera da come l'hai raccontata anche da quel poco che avevo letto su questa mostra ognuna di queste 16 opere sarà proprio unica porterà un messaggio è bello anche questo che hai raccontato che tutti i materiali che hai usato per ogni singola opera hanno un simbolo portano avanti un messaggio molto forte però volevo anche farti un'ultima domanda riguardo a questa mostra perché hai parlato di questa collaborazione con gli studenti del liceo è davvero molto bella e immagino che per loro sia stata una grande esperienza anche formativa e volevo chiederti come loro hanno risposto a questa collaborazione con te e anche a questo tema direi che considerando che fanno questo lavoro in ore extracurricolari nel pomeriggio e quindi che si sono impegnati a leggere il mio libro a estrapolare dal mio libro i contenuti più importanti che secondo loro erano da comunicarsi hanno fatto dei cartelloni dei tabelloni hanno espresso per iscritto i loro pensieri mi li hanno dati per confrontarci ci siamo incontrati nello spazio stesso della scuola e quindi hanno espresso le loro curiosità le loro domande il loro sentire il tutto in un silenzio quasi incredibile per una classe che poi non sono ragazzi di un'unica classe ma sono di terza e quarta liceo quindi sono anche mescolati tra di loro e trovarsi di fronte un gruppo di ragazzi un nucleo di ragazzi così disponibile a selezionare le opere a guardarle, a commentarle beh direi che vale di più di qualsiasi pubblico perché i ragazzi sono molto spontanei e soprattutto fanno anche delle domande che sono non sempre facili da considerare nella risposta perché vanno proprio toccando il loro sentire più personale e quindi le pongono creando anche una possibilità di lettura di loro stessi immagino che sia stata un'esperienza arricchente per tutti voi che avete partecipato ed è bello sapere che dei giovanissimi abbiano risposto in maniera così sentita e questo mi fa pensare che sia anche proprio la potenza del mezzo artistico che riesce proprio a coinvolgerti tanto questo è bello anche perché i ragazzi sono abituati sicuramente ad andare a vedere le mostre ad andare ai musei il più delle volte accompagnati dagli insegnanti e quando sono in un museo sono davanti ad un'opera che devono leggere, interpretare, osservare commentata magari dall'insegnante e raramente invece si trovano l'artista che l'ha realizzata e quindi questa possibilità di commentare direttamente con l'artista le motivazioni per cui un'opera è nata ed è stato usato magari quel tessuto oppure quel colore o quella tecnica sicuramente fa la differenza di fatto questa mostra ha anche un'altra prerogativa di mettere in evidenza diverse tecniche espressive proprio perché ogni tecnica è quella che maggiormente si confà per una analisi e descrizione dell'opera stessa questo naturalmente da parte mia che ho scelto la tecnica ma per i ragazzi chiaramente è stata un'opportunità di suscitare domande perché la cianotipia? perché la resina piuttosto che la pittura? quindi questo indagare da una tecnica all'altra è come indagare tra una lingua e l'altra perché parli l'inglese o perché parli il francese che cosa mi dice di più invece l'italiano ecco questo commissionare un po' le cose crea sicuramente motivo di scambio ulteriore io ti ringrazio veramente tanto per questa intervista perché è stato molto bello scoprire anche un po' dietro le quinte di questa mostra e ricordo per chi ci sta ascoltando che verrà inaugurata questo venerdì 8 marzo alle ore 17 potete andare alla sale esposizioni spazio cultura di San Giuliano Milanese l'ingresso è libero e quindi insomma invito chi è rimasto incuriosito alla possibilità di andare e ringrazio ancora tanto l'artista Sara Montani io ringrazio moltissimo voi ringrazio gli insegnanti che hanno partecipato a questa organizzazione di mostra e anche soprattutto la professoressa Inza Spatola che ha gestito anche i ragazzi e l'organizzazione grazie buon pomeriggio